Stamattina invece abbiamo l'onore e devo dire anche un po' il terrore di avere in tutti i sensi di avere con noi Deborah Montanari in arte Debipedia. Buongiorno ma che bello tornare. Sai che mi fai un po' paura? No perché dovete sapere che Debipedia ogni volta che trasmetto e sbaglio qualcosa lei mi scrive subito. Cosa ti porta a correggere? Chi è che te lo dice? Federico? Chi è che te lo dice? No ma è nel mio DNA mi piace incutere terrore. Ok poi tra l'altro c'è un mio amico e ascoltatore che è anche tuo amico e ascoltatore no ascoltatore no è mio ascoltatore Daniele che mi ha detto che tu sei una cecchina infallibile al poligono è vero? Io l'ho scoperto da poco di essere una cecchina. Vabbè allora ti voglio bene non ti dico niente di adesso spara anche vabbè. Debipedia grazie per essere venuta qui e visto che da un paio di mesi è uscito il tuo ultimo libro 5 ore di terrore se sei d'accordo io farei sentire il trailer. E come no certo? E come no facciamolo sentire che i Red Silver Shift si scatenano sul palco due fan sperano di incontrarli nessuno di loro può immaginare ciò che li intende sono in mezzo al nulla Una devastante tempesta si avvicina ma chi li osserva è ancora più devastante il loro destino è puro errore Un romanzo horror di Deborah Montanari disponibile su Amazon Eccolo qui il trailer di 5 ore di terrore come avete sentito disponibile su Amazon Ci puoi intanto parlare della tua collaborazione con Paolo Sborzacchi Infatti era proprio quello a cui stavo pensando la prima cosa che vorrei dire avete ascoltato che bella la musica l'avete sentita La musica che fa da sfondo al trailer è di Paolo Sborzacchi un carissimo amico compositore musicista infatti la scritta lui la suona lui la voce che sentite così inquietante deformata è la sua Quindi diciamo che lui è stato un po' un po' togliamo questo po' è stato molto l'anima di questo book trailer Il book trailer è come il trailer di un film ovviamente quindi voi ve lo potete anche andare a vedere su youtube mettendo il titolo 5 ore di terrore O Deborah Montanari e trovate il book trailer che è un riassuntino che non vi svela nulla del libro E Paolo Sborzacchi è il musicista che ha dato un po' l'anima al trailer perché come per tutto quello che riguarda l'immagine e i video ci vuole anche la musica Perché fa fa l'atmosfera c'è poco da fare E tra l'altro se andate su youtube e digitate goblin to goblin avrete la possibilità di vedere proprio quello che ho in sottofondo adesso Di ascoltare l'intero brano Esatto l'intero brano di Paolo Sborzacchi Detto questo sono contenta che la prima intervista veramente dedicata al mio romanzo sia caduta nel tuo Rock Tuesday Perché il romanzo parla proprio Di me? No però proprio di Rock I protagonisti come dice il book trailer sono i Red Silver Shift un gruppo Rock Metal Possa avere i cd di questi? Allora guarda non si può avere il cd perché semplicemente questi ragazzi suonano nel libro Quindi è una truffa Se tu vuoi sentire la loro musica ti devi leggere il libro Poi vedi un po' dopo se riesci a farti un po' di viaggi Vabbè metterò qualche altro gruppo sconosciuto e dirò che sono come si chiamano i? Red Silver Shift Red Silver Shift Bene Bene quindi Poi non spoileriamo niente perché magari qualcuno è invogliato a comprare il tuo libro Che vi ricordo si chiama 5 ore di terrore 5 proprio con il numero Con il numero Vedi hanno già scritto sono praticamente 5 ore trascorse con Volmer Anche quelle sarebbero 5 ore di terrore Beh diciamo che io frequentando Volmer ogni tanto Ho capito che cosa voleva dire vivere nel terrore e quindi sono riuscita a riportare il tutto nel romanzo Perfetto ti voglio bene anch'io Bene e quindi allora da un paio di mesi è partita la vendita del tuo libro Allora ho cominciato a vendere il libro ovviamente adesso è partita anche la promozione E allora parliamo innanzitutto del contenuto perché una delle domande che mi è arrivata più spesso via email Sì È proprio quella che riguarda il fatto che sia un horror Ora io rispondo a buona parte di chi mi ha scritto La prima è stata una ragazza che in realtà poi si è fidata di quello che le ho detto per email E ha comperato il libro ed è rimasta contentissima perché perché lei aveva paura che il libro fosse troppo vicino a quello che sono i film horror di adesso Chiariamo i film horror di adesso tendono ad avere poco contenuto e molto sangue Molta violenza molto estremizzata quindi assolutamente non adatta a tutti Questo cosa significa? Che molti quando tu dici horror molti soprattutto i più giovani che magari non sono abituati ai film horror Tendono a tirarsi un po' indietro ecco vi volevo un pochino rassicurare State tranquilli quindi non c'è niente di splatter No Tensione 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 Io mentre scrivevo non era la mia massima aspirazione schifare i lettori In che senso? Era il contrario Cioè non mi piace scrivere cose che portino a far ribaltare lo stomaco al lettore Questo perché? Perché deriva dalla mia stessa esperienza di grande appassionata di horror Cioè per me l'horror non è quello che ti schifa o ti fa ribaltare lo stomaco O esci che dovresti andare in bagno a vomitare Perché quello è quello che estremizza il genere E' quello che porta agli eccessi solo per causare delle problematiche a chi lo guarda In realtà per me l'horror è quello che veramente ti fa sentire il brivido lungo la schiena Che ti fa rizzare i capelli sulla testa senza mostrarti quasi nulla Certo, un po' allora tipo la finestra sul cortile di Hitchcock C'è sempre tensione Io pensavo anche alle verità nascoste con Harrison Ford e la Michelle Pfeiffer Questo è il tipico horror Non vedi assolutamente nulla Però sei sempre con una tensione addosso Che io ricordo quando ero al cinema a vederlo avevo tre ragazzi dietro Ragazzi, parlo di tre adulti maschi che urlavano in continuazione Ah bene, cioè Sì, questo perché? Perché questo è l'horror Questo è l'horror che ti scatena emozioni molto più profonde Non a livello di stomaco Non deve star lì Non è lì l'horror L'emozione deve arrivare dal profondo Devi entrare nella storia e viverla Da poco ho pubblicato su deboramontanari.com Il mio sito internet Ho pubblicato un brevissimo articolo Lo leggete in meno di due minuti Che si intitola Come in una escape room L'escape room è una stanza da cui devi fuggire Di solito si fa anche fisicamente In realtà faccio un paragone con i libri E soprattutto i libri di genere Cioè di horror, di fantasy Cosa succede quando tu leggi libri con determinati contenuti? Ti ritrovi a vivere un'esperienza particolare Un'esperienza molto forte Che ti porta, ti può portare sì alla paura, all'orrore Ma ti porta anche a un'indagine interiore A un'indagine su chi sei O come affronteresti determinate situazioni E questa è la parte bella dell'horror Ti fa trovare di fronte a situazioni Che nella vita reale, grazie al cielo E si spera da quando si nasce Fino a quando si arriva nella tomba Non si vivano Però attraverso film e libri horror Si possono vivere queste situazioni Qual è la parte ludica, diciamo La parte che ci fa divertire di questo Perché uno dice Ma sei masochista? Che sei sadica? No La parte che ci fa divertire di questo È poter provare paura in piena sicurezza Ma soprattutto imparare a vivere queste esperienze Quindi ecco perché agli adolescenti piace così tanto Perché hanno bisogno di imparare a vivere le esperienze Di fronte al male Di fronte a ciò che c'è nel mondo di malefico Senza però doverle affrontare faccia a faccia e di persona Che è tutta un'altra cosa ovviamente Quindi insomma sfogare lì tutte le paure Ma cioè in pratica ci vuole la mutanda gommata In certi momenti del libro Oppure si può affrontare anche senza Cioè proprio ti prende Allora questo lo deve dire il lettore Io leggendo le recensioni che ho su Amazon Che purtroppo ancora sono poche rispetto al numero di libri venduti Mi raccomando Se acquistate il libro fate la recensione Sì sì bastano due o tre righe Le vostre emozioni È importante Vedete quanto è importante Perché io adesso vado a riprendere le recensioni di Amazon Scritte dai primi lettori E ve le riporto a voi Quasi tutti nella media diciamo delle recensioni C'è scritto che è un libro che non riesci ad appoggiare Cioè devi girare continuamente la pagina E ti tiene in continua attenzione Una cosa scritta Da un genitore Che mi ha fatto veramente piacere È una delle ultime che sono state scritte Ha scritto Adesso cerco di ricordare bene le parole Ha scritto Come genitore questa è una storia da regalare Consigliare ai più giovani Perché trasmette dei valori È vero perché ovviamente come vi dicevo Qui vado un pochino più in profondità Rispetto all'horror a cui siamo abituati E inoltre lui dice anche potrebbero anche imparare A non fare mai e poi mai quello che fa la protagonista Perché Attenzione Sì lui dice una cosa davvero folle E poi si ferma lì perché ovviamente Anche lui non vuole spoilerare Grazie al cielo Si è fermato e non ha detto nulla Anzi Non so se Non so chi sia questa persona Non so se sta ascoltando Comunque Non mi ha neanche scritto un email Quindi non ho modo di ringraziarlo Perché ha messo in campo due cose molto importanti Un po' i valori che io cerco di riportare dentro il libro Che è vero che Sono dedicati ai giovani ma anche agli adulti Ma sono nascosti tra le righe In un libro horror Per cui non è che Vi ritrovate di fronte a Non lo so A un libro della serie Fai così non fare così No Tutt'altro Io vi mostro che cosa Un colpo di testa della protagonista Perché è davvero un colpo di testa Ma la protagonista ci fai capire è una donna La protagonista sì Ecco Si chiama Ida Eh ma per forza Cioè voglio dire Cioè no Faccio per dire capito che Cioè tu sai che sei una colazione da Volmer E se tu mi vieni a dire che la protagonista squilibrata è una donna Praticamente Cioè Vieni a casa mia Cioè butti il pallone nel mio campo capito Quindi Le cose folli le fanno le donne Le cose folli Perché come dice Cindy Lauper Le donne vogliono solo divertirsi Esatto E io prenderò il farmaco della Johnson & Johnson Che fa crescere le tette Che così Mi sentirò un po' donna anch'io Bene E infatti Ida con la sua amica Vuole solo divertirsi E fa un colpo di testa Veramente Una cosa veramente cretina Ignorante Adesso ve lo dico Adesso io so che cosa stanno dicendo I bragoni che ci stanno ascoltando Che dico Mo va Mo va Ma chi l'avrebbe detto Che una donna fa una cosa veramente Vi dico questo Mentre lo scrivevo Perché non era nulla Io quando scrivo non preparo nulla Quindi mi arriva tutto al momento E quando ho scritto questa cosa cretina Che fa la protagonista Mi sono fermato e ho detto E bamba Non l'avrei fatto neanch'io Nei migliori anni della mia vita Da 15 anni Quando ero pazza E ricombattuta E ricombattuta No 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 Si fa fare la cosa cretina Proprio alla protagonista Proprio perché così Chi legge vive Vive l'esperienza Dell'errore E poi delle conseguenze Di un errore Mi hanno chiesto Se 5 ore di terrore È praticamente La storia Di una donna Che ammazza il marito Con la complicità Di questo gruppo musicale E la fanno franca No Perché oh Voglio dire Se questa è così suonata Magari ci può anche stare Ci può anche stare No niente No Nulla di tutto ciò Non ci sono mariti ammazzati Però mi riservo Di tenere l'idea Magari per un prossimo romanzo Perfetto Tuo marito sarà contento Sta bene tuo marito? È contentissimo Ecco Lui che cosa dice? Ma lui è felice Lui è felice Non l'ha ancora letto il libro È per fortuna Allora dopo che l'avrà letto Poi ne riparliamo Esatto Ma lui è contento Lui ti appoggia Dice vai Debipedia Povero Va bene Povero marito Va bene Ah ti volevo fare una domanda Sì Ho visto che tu Eri tutta pronta Allora Io so che Nei tuoi precedenti libri Ti eri affidata A una casa editrice Questo libro invece Lo fai come self-publishing Self-publishing Ecco quindi praticamente sei L'imprenditrice di te stessa Praticamente Esatto Giusto È vero che hai fatto Dei corsi Nelle università americane Per poter Per poter pubblicizzare meglio Il tuo libro Sì per imparare un po' Perché mi sono ritrovata In un mondo sconosciuto Cioè il mondo del marketing E della promozione Che per me era assolutamente Una cosa Mai Mai affrontata Nei miei primi due romanzi Io facevo diciamo Una promozione Più faccia a faccia Io avevo modo di parlare Con chi Comperava il libro E poi c'era di mezzo Un editore Quindi quando Il libro veniva Ordinato per posta Io non sapevo Nulla Del lettore Era l'editore Che conosceva Il lettore E aveva I rapporti con loro E invece Quando Mi ritrovavo A firmare Autografi Quando ho fatto La presentazione Anche Al cinema Star City Quando ancora Era aperto Esatto Me lo ricordo Mi sono ritrovata È stata proprio davanti Ai lettori Quindi è tutta un'altra cosa Sono cambiati I propri tempi Io ho avuto dieci anni Di assoluto limbo In cui non ho scritto Quindi È cambiato tutto Nel momento In cui ho deciso Di scrivere Questo romanzo Di tornare Al mio amato Horror Perché io adoro L'horror Proprio una passione Fin da bambina Per l'horror Mentre i miei primi due romanzi Sono di fantasy contemporaneo Ma infatti Stai spessissimo Con Federico Quindi per forza Devi amare L'horror Ciao Fede Ti vogliamo bene Ciao Fede Chissà se sta ascoltando Penso di sì Per cui Adesso mi ritrovo In un mondo Totalmente Diverso Però nel momento In cui ho deciso Di scrivere il libro Avevo anche già deciso Di scegliere Un'altra strada Questo perché Perché L'ho visto come Una sorta Di ritorno E quando si fanno Queste operazioni Si vuole anche cambiare Nel vero senso Della parola L'unico modo Per cambiare In via definitiva Era fare Il self publishing Cioè Non appoggiarmi più A un editore E fare tutto Per conto mio Da un lato Sì Ne sono felicissima Però Cosa comporta Questa scelta Un lavoro Enorme Esponenziale Rispetto All'essere Sotto un editore Quindi un grande lavoro Prima A scriverlo Il grande lavoro Dopo Per crearti Il lavoro successivo È molto più grande Certo Ciò non esclude Il fatto che Anche se avessi Un Avessi scelto Di andare di nuovo Sotto editore Avrei comunque Dovuto fare Lo stesso lavoro Sono proprio cambiate le cose Solo che adesso Gli editori non ti pubblicizzano più Per cui Comunque Non si possono andare a fare Le presentazioni Da nessuna parte Quindi è un momento Complicato È proprio cambiato tutto E in questo modo Sicuramente Io Come dici tu Sono diventata Imprenditrice di me stessa Questo comporta Una responsabilità Enorme Perché Se tu sbagli Sbagli sulla tua pelle E non sulla pelle Dell'editore E non te la puoi prendere Con nessuno No Te la devi prendere Con te stesso E lì cascalasi O con tuo marito Cioè perché alla fine Il marito è il mio Pungible E vedi che alla fine Poi Virtualmente parlando Eh ragazzi No Hai ragione Tu non te la puoi prendere Con nessuno Quindi se tu sbagli E se io sbaglio È colpa mia Ma se faccio bene Mi autoelogio E questo cosa comporta Che ti aumenta L'entusiasmo Ad esempio Quando mi arrivano Le recensioni Su Amazon L'entusiasmo Il mio È superiore Rispetto ai primi Due libri Quando avevo Certo Diciamo Diciamo i feedback Dei lettori Perché Perché in questo momento Io sto lavorando Per il mio libro Quindi tutto ciò Che mi torna indietro È tutto Il guadagno Della mia fatica Per forza Sei più entusiasta E sei spinto A fare di più E io ho già In mente Anche un'altra storia Quindi sei anche spinto A scrivere Molto più velocemente Rispetto A quell'altra scelta Che avevo fatto All'inizio Cioè ad avere un editore Benissimo Ecco Se vuoi fare un horror Però Tienti lontana Dal mondo della musica Perché non vorrei Che tutto il casino Con il gruppo Vai a finire Che ammazzi Quelli che lavorano in radio Ecco Che metti Delle strane idee Alle persone No Io dovevo scrivere Un horror Sul mondo della musica E sui ragazzi Che Ragazzi e ragazze Che fanno metal Heavy metal e rock Perché dovevo parlare Di questo Lo scoprirete Leggendo il libro E capirete il perché Sono andata a spingere Proprio su rock Heavy metal C'è una motivazione Precisa E nel libro La dico Perché Il comportamento Dei quattro ragazzi Che fanno parte Dei red silver shift È molto particolare Loro sono Incredibili Il Chi fond Il ragazzo Che fondatore Del gruppo È particolarissimo E ha un'idea Di base Che poi sviluppa Insieme agli altri E riuscirà A fare Una cosa Incredibile Adesso Non spoilerare Non dire niente Insomma Praticamente Volevi dire Che il fondatore Del gruppo Io l'ho cresciuto Con rock Tuesday E rock Thursday Ecco il succo È questo qua Era questo Che volevi dire Che sono cresciuti Quelli De questo gruppo Con una colazione Da Volmer Bene Deborah Montanari Debbiepedia Grazie per essere venuta Ricorda Dove ti possono trovare Sul web Su Ovunque Dove possono acquistare Il libro Allora Il libro si intitola Cinque ore di terrore Cinque in numero Lo potete cercare Su Youtube Per andare a vedere Il book trailer E lo potete trovare Per acquistarlo Su Amazon Basta che scriviate Cinque ore di terrore Oppure anche solo Il mio nome Deborah Montanari E cadete Nella pagina Del mio libro Insomma Amazon vi propone Il mio libro E per contattarti Possono andare Sul tuo sito Che è DeborahMontanari.com Deborah senza H finale Perfetto Benissimo Noi ti Ringraziamo Salutaci tuo marito Povero E salutaci Federico Che comunque domani Sarà qui Insieme a noi Grazie E poi ti aspettiamo Magari più avanti Per sapere Come sta andando Per magari Anche rispondere A certe A tante domande Che magari Ti possono porre Sul tuo sito Magari Contattatemi Scrivetemi Delle email Non è un problema Anzi L'ho proprio scritto Nel mio sito Potete contattarmi E chiedermi Qualsiasi cosa Poi Avrò modo Di rispondervi Personalmente E spero anche La prossima volta Che sarò ospite Di Volmer Benissimo Perfetto Grazie Debbiepedia Ciao Ciao Ciao